Io credo che questo che è stato presentato sia una cosa fondamentale e importante soprattutto per i giovani, per il lavoro che si è fatto nelle scuole, per il lavoro che va fatto in futuro. Si deve partire dai giovani perché attraverso loro si può interrompere questa catena del doping, sicuramente con il coinvolgimento anche delle famiglie. Il riconoscimento che abbiamo avuto degli ospiti credo che sia una cosa importante ed è un buon lavoro svolto in questi mesi. Grazie a chi ha lavorato i comitati, l'ufficio progetti per la riuscita di questo ultimo progetto.